Come ti chiami? Daniela Bracco Antonella Siliato Marilena Bater Gianandrea Patrizia Di Gioia Ego Da quanto lavori in Autos? Da ottobre 2016 Due anni Circa due anni e mezzo Dodici anni Trent'anni Spiega il tuo lavoro Io lavoro nel back office Immatricolazione, fatturazione, consegna al cliente Io mi occupo di gestire le pratiche del settore usato Delle sedi di Lardora e di Moncalieri Sono praticamente un'impiegata dell'ufficio amministrazione E ultimamente mi occupo anche del gestire gli altri uffici Ma solo per una questione di organizzazione In quanti siete? Siamo sei donne e un uomo Sette La cosa bella di lavorare in team È bello perché credo che siamo tutte persone molto professionali Quindi ci aiutiamo In caso di difficoltà ci confrontiamo L'unione fa la forza Quindi lavorare in team significa migliorare E migliorarsi E quella brutta? Una brutta fisicamente? Teo Vabbè questo panno è questo La cosa più difficile che ti ha portato Autos Lavorare con le donne Vabbè è l'unico uomo quindi ne approfittiamo un po' Poi vabbè è bravissimo E quindi ne approfittiamo anche per quello Come affronti il fine mese? Fine mese? Fine mese è qui onde lì La faccia da fine mese Quale caratteristica di un collega vorresti avere? Diplomazia Le entusiasmo Da calma Troppo buona Sempre disponibile Lei è una persona molto sorridente e solare Quindi mi piacerebbe essere anch'io Solare e sorridente come lei Cosa volevi fare da grande? Ho giocato sempre a pallavolo Però vabbè Volevo farla a cuccarini e per Parisi L'astronauta L'avvocato Da grande l'avvocato La veterinaria È la fine del mondo Quale oggetto porteresti con te? Non è un oggetto È il mio cane Perché l'amo Io è il mio cane Mi porto un pezzo di pizza Almeno mangio Già che finisce Se Backoffice fosse una sitcom Quale sarebbe? Big Bang Theory Perché qua siamo tutta una manica di cervelloni Ma tutti strampalati Proprio adesso volevo prendere un croissant Ma non volevo sentirti dire uh la la Friends Quanti minuti ci metti a caricare un contratto? 5 minuti Smazzarlo sono 10 minuti a contratto più o meno Due minuti Lo sai che ti metterò alla prova? Ah sì? Va bene Sì sì quando vuoi Con quale piatto ti presenteresti a Masterchef? No sto fare il tiramisù L'unica cosa Ragazzi parmigiana di melanzane non ce n'è Una personalità di successo secondo te? Ce l'ho Francesco di Ciombo Paolo Bonolis Assolutamente Francesco Ne sei sempre più una più del diavolo Cos'è We Autos? Che cos'è? We Autos siamo noi Lui? È un mezzo per far conoscere alla gente Tramite i social Le persone che lavorano dietro questa azienda Sinceramente non lo so La telefonia Io non ci gioco mica con le paperelle Ci giocano questa 6 magna i paperelle Cosa dirai finita l'intervista? Che figura di un p***o Finito l'incubo Meno male Finalmente è finita Meno male Partiamo con la sfida Ciao Grazie a tutti